Sì, adesso in realtà sono tornato a casa, avete visto la porta? Come vi ho detto, era fuori la casa di mio nonno, anzi la porta, il palazzo è la casa di mio nonno, paterno. Quando vado lì purtroppo non posso orlare più di tanto perché l'orario è quello che è, in genere vado sempre alle tre, e poi appunto sono molte persone anziane e quindi non posso alzare e urlare la voce o urlare più di tanto, per cui questa è la motivazione, la chiarisco, una volta per tutto nel caso qualcuno si chiede appunto perché ho la voce così bassa in quei report. Ma today is another important day, because today I would like to wish a very 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 one day, in realtà almost one day, to the first daughter of my sister, che appunto was born yesterday. Ieri alle 9 di sera è nata, è nata la figlia di mia sorella, appunto la prima figlia, and she is, her name is Elena. So, a very happy birthday to her, primo giorno quasi per lei, lo farà alle 9 di questa sera. And emozioni ovviamente per mia sorella, come tutte le donne, è stato facile la prima esperienza, insomma il primo parto e quindi è stato esattamente molto complicato, sono stati gli ultimi giorni, mia madre ovviamente ha molto in tensione, più di tutti, ma diciamo mio fratello avendo fatto, anche lui, avendo avuto una prima figlia il 18 ottobre scorso, praticamente queste due figlie, che sono due femmine, appunto, a questo punto hanno quasi sei mesi di distanza, di differenza, voglio dire, l'una dall'altra, appunto la figlia di mio fratello è quasi sei mesi più grande della figlia di mia sorella. Bene, sì, bene, io in realtà come qualcuno, se qualcuno mi ha seguito nei mesi passati, o comunque quelli che mi seguono sempre, sa che ho una visione in realtà diversa sui figli. Certo, sono contento appunto per mia sorella e mio fratello, ma io credo di essere antinatalista, influenzato anche molto dalle filosofie di Schopenhauer, insomma di Leopardi, di Emil Schoran, e questa gente lì, avendo anche studiato filosofia, comunque sì, io, come dicevo, sono, non sono di quelli che pensa che la nascita sia un gesto positivo, ma all'esatto contrario, perché prima di tutto, prima di tutto il figlio, il nascituro, è contro il suo volere che viene al mondo, e quindi non è libero, perché scelgono altri per lui, e se si chiedesse a lui, appunto, se sarebbe voluto venire al mondo oppure no, certamente risponderebbe anche di no, bisognerebbe chiedere a lui per sapere se veramente al figlio sarebbe voluto nascere oppure no, quindi prima di tutto, altro che atto libero, altro che qualcosa di libero, anzi è un atto che va proprio contro la libertà del nascituro. Ma soprattutto fare un figlio, diciamo, è un gesto anche molto rischioso, secondo me perché, e quindi secondo me è un atto di sofferenza, perché uno, forse solo all'inizio, ma non si rende conto appunto all'inizio di tutte le sofferenze che va a patire poi il figlio, può essere facile nei primissimi anni, ma poi dopo c'è una serie di sofferenze interminabili, che sembrava una vera immagine, e che quindi, secondo me, altro che felicità, non fanno altro che far soffrire continuamente quel dato figlio. Ovviamente questo è anche il frutto della mia esperienza personale, ci mancherebbe, ma comunque appunto, però in virtù di questo io sono quasi sicuro che, sono quasi sicuro che non farò mai un figlio, al massimo, come suggeriscono anche gli oroscopi, l'astronomia, ma quella seria, che dice le cose serie, io ne avrò uno, ma oltre i 40 anni, almeno da quello che ho letto, o sotto i 40 anni, oltre i 40 anni, ma giusto per capire che cosa si prova. Ma credo anche di no, perché non è che poi devo seguire, per forza, alle indicazioni dell'astronomia, posso anche andare contro, contro quelle, insomma, queste indicazioni, perché, come dice anche il mitico, il leggendario, anzi direi Immanuel Kant, la legge morale è dentro di me, il cielo stellato è sopra di me, quindi la legge morale la decido io, le cose le decido io, e quindi io sono quasi sicuro, diciamo al 99%, che non avrò mai un figlio. Ora, lo so, l'ho detto già un'altra volta questo discorso, ma lo ripeto, forse adesso sono più chiaro, io, appunto, sarò anche condannabile, perché forse sarò una delle poche persone al mondo a cui non piacciono i bambini, cioè non è che non mi piacciono i bambini, appunto non mi piace la nascita, l'atto della nascita, perché, in fondo, anche io sono stato un bambino, ma non mi piace l'atto per quello che poi porta, quello, appunto, cioè per ciò che implica, appunto, che va contro la libertà e anche altri diritti fondamentali, diciamo, dell'uomo. E non mi interessa continuare in generazione quello che sono io, perché io, io comunque sono unico e non sono replicabile. Quindi non potrei, certamente, appunto, non potrei far continuare a mio figlio, diciamo, le cose che faccio io, creando un figlio, non potrei continuare ciò che sono io, perché io sono unico, ripeto, e non sono replicabile, così come sono praticamente sicuro che non sarei assolutamente un buon padre. Quindi, io so, potrei essere arso, potrei essere bruciato, potrei essere andato alla pina di morte per queste cose che sto dicendo, ma io preferisco avere una mia verità e nulla che invece andare avanti con, insomma, con le falsità, come poi tra l'altro fanno la maggior parte dei genitori, oggi soprattutto, quindi preferisco avere una mia verità ben salda, che puoi nascondere certe cose e puoi pensarle ad un certo punto della mia vita. Quindi, credo di essere molto più coerente io che tanti milioni di genitori, soprattutto di quest'epoca, perché secondo me un conto era fare genitori fino a diversi anni fa e un conto è fare genitori adesso e avere i figli adesso, che secondo me, appunto, è veramente un rischio ancora più grande, è veramente un rischio ancora più grande di quello di anni passati. Sì, appunto, ripeto, sono contento per i miei fratelli, perché comunque quella della loro vita, loro saranno contenti, hanno il loro tipo di vita, eccetera, a me mi dà solo fastidio, sì. Poi, in qualche modo, si dice che la mia vita è brutta perché non ho figli, dalla parte esterna, mi hai detto che la vita di mia sorella e di mio fratello sono migliori della mia perché non ho figli, perché non sono allegro, ma poi che cos'è in fondo l'allegria? Che si chiama la bellissima frase del penista Chopin, dice, Chi non ride mai non è una persona, non è una persona seria. Ecco, ossimoro, ma una delle più grandi verità, perché proprio chi ride in realtà è la persona più seria di chi non ride, che invece è una persona meno seria di chi ride. La frase è molto metaforica, ma appunto anche comprensibile se uno ci ragiona un po', ci riflette in fondo. In realtà è proprio chi ride che prende le cose seriamente perché vuole fare esattamente le cose così come si devono fare, come detta la società, mentre chi non ride mai va proprio appunto contro la risata, cioè contro il modo di fare canonico di chi si attiene alle regole della società che, secondo me, quando si parla di società, la società non esiste. È qualcosa che ne ho invitato sempre io, ma non sta scritto a nessuna parte che le regole della società siano regole che valgono sempre e per tutti. Ricorderete la bellissima canzone di Eddie Vedder in Into the Wild di Teresa Selvaggia di Sean Penn, film o anche libro, però non ho mai letto. Comunque è una canzone bellissima, forse prima o poi anche interpellerò, che si scaglia proprio contro la società. Sociate, vi ricordate, no? Cosa vuoi da me, società, eccetera, eccetera. Sì, proprio così. Ma io, in fondo, non bisogna prendermi alla lettra. Non sono certamente un modello da seguire, perché io sono un anarchico, insomma, sono contro i poteri, ragiono da solo con la mia testa, sono molto individualista, quindi ho un pensiero comunque pericoloso, perché il pensiero può essere più pericoloso del fisico, può fare più danni di danni fisici, così come le parole, appunto. Però, appunto, non è da prittere alla lettra, soprattutto non è da imitare, perché è un pensiero mio che può essere, come ho detto, potrebbe essere anche recondannato per questi pensieri. Però, appunto, è così. Poi pensavo al mio tributo su Angelo Badalamenti, il continuo, la seconda parte, non linciana, ma potete vedere il video caricato ieri, in GTA descrizione di quel video, perché è scritto tutto lì, ma del prossimo pezzo ne parlo appunto meglio domani, quando lo caricherò. Sul resto, credo di aver pensato a tutto, sì, se mi dovesse venire come al solito, o qu'altra cosa in mente, sicuramente, forse, aggiungo in descrizione. Great day again, a domani.